Piazza 40 Martiri, che da Stengo in avanti è stata definita un luogo che andava riqualificato, riletto, risistemato, effettivamente nel corso dei decenni non è che abbia subito questi processi di riqualificazione che invece sono necessari, che non significano naturalmente snaturarla. Ecco, certo, se oggi si pensa che parlare di Piazza 40 Martiri vuol dire cancellare i giardini pubblici, è una sciocchezza, non è questa l'intenzione. Eventualmente si tratta di migliorarli, di renderli ancora più belli, magari di ampliarli. L'importante però è che abbiamo l'idea che quel luogo non può essere semplicemente una grande rotatoria, un grande parcheggio dove si capisce male qual è la parte pedonale, qual è la parte dedicata alle auto. Entra a piede dritto il sindaco di Gubbio Filippo Stirati sulla questione di Piazza 40 Martiri, rispondendo ai commenti più o meno sotterranei di chi paventava l'azzeramento dei giardini di Piazza 40 Martiri. I giardini, dice in sostanza, il primo cittadino restano, magari andranno rivisti, anche nelle essenze arboree presenti, ma nessuno vuole cancellarli. La precisazione è alla vigilia dell'evento Loro di Gubbio, la due giorni di dibattito attesa venerdì 7 e sabato 8 aprile a Palazzo Pretorio, in cui il tema dibattuto sarà la rigenerazione urbana, per capire cos'è e come può essere applicabile alla città. Loro di Gubbio è una riflessione che si incentra su un tema oggi molto attuale, che possiamo dire rappresenta la frontiera più avanzata di come oggi si riflette in termini urbanistici, cioè la rigenerazione urbana. L'idea è che ormai non c'è più la prospettiva di uno sviluppo quantitativo, affidato all'incremento, diciamo così, dell'edilizia, delle abitazioni, all'espansione, ma c'è una riflessione sulla qualità. E quindi significa riflettere sul centro storico dal punto di vista, certamente, della sua valorizzazione, ma anche dei suoi accessi, favorendo la mobilità alternativa, anche, diciamo così, la capacità di godere del centro storico e di offrirlo ai visitatori in termini più complessivi, più ampi di quanto non si faccia oggi. Poi, ovviamente, c'è la riqualificazione urbana del territorio, la periferia, l'espansione, le frazioni. Significa, diciamo così, pensare meglio al verde, alla viabilità, ai collegamenti, alle infrastrutture, alla sistemazione del territorio da tutti i punti di vista, compreso quello idrogeologico. A pochi giorni da un Consiglio comunale, in cui molte delle opposizioni hanno imputato all'amministrazione comunale carenze sotto il profilo urbanistico, il Sindaco risponde con queste due giorni, in cui sarà presente l'architetto Leopoldo Freri, a cui il Comune ha dato l'incarico di presentare un progetto di rigenerazione urbana in cui i primi esiti si vedranno durante l'estate. Quanto all'oro di Gubbio, nomi importanti in scaletta, con l'avvio dei lavori affidato venerdì 7 alle ore 10 alla Sala Trecentesca, all'assessore regionale Giuseppe Chianella e alla soprintendente per l'Umbria, Marica Mercalli, seguono Mario Abis, amministratore di Macno e consulente del Governo per lo sviluppo delle città metropolitane. Nel pomeriggio, dalle 15, il viceministro alle infrastrutture Riccardo Rencini, quindi l'esperienza di Gubbio con il suo piano della mobilità sostenibile. La sera alle 21, Sergio Rizzo, del Corriere della Sera, ha colloquio con l'architetto Freri sull'Italia delle bellezze dimenticata. Sabato dal pomeriggio, le conclusioni in una tavola rotonda che vedrà, tra i nomi, il vicepresidente di Lega Ambiente, Edoardo Zanchini e il professor Alberto Grouman, con la città medievale in una visione e contesto europeo.